Buongiorno ragazzi, terza domenica di Pasqua, la Chiesa ci propone di ascoltare il Vangelo che nel capitolo 24 di Luca, che potete andare a cercare e leggere anche voi, racconta di due discepoli di Gesù, i quali lo avevano seguito nella vita che lui aveva trascorso, annunciando il Vangelo, guarendo i malati, facendo miracoli. Erano entrati a Gerusalemme insieme a lui, accolto dai rami di olivo, di palme, vi ricordate prima di Pasqua? Poi però avevano sofferto molto perché avevano visto che Gesù era stato catturato, giudicato, condannato a morte e ucciso sulla croce. E allora nel racconto noi vediamo questi due discepoli che da Gerusalemme se ne stanno andando. Facciamo un po' così per capire. Immaginate che Gerusalemme sia lì dove state voi, dietro allo schermo al quale sto parlando, e loro si erano girati verso una città come quella laggiù, si chiamava Emmaus, la città dove andavano loro. E avevano fatto questa cosa, camminavano, se ne andavano via di schiena a Gerusalemme. Ditemi la verità, mentre io ero di schiena voi non mi potevate vedere il volto, non si può parlare con le persone che vanno via di schiena, vero? Si allontanavano da Gerusalemme. Perché? Perché la morte in croce di Gesù li aveva delusi. Oggi parliamo della delusione. A loro era capitato di rimanere delusi nelle loro aspettative su Gesù, che pensavano che avrebbe liberato il popolo con forza, con potenza, magari anche con la spada, ecco. E invece era morto in croce. Ed erano rimasti così delusi che quando qualcuno gli aveva detto, no ma guarda che è risorto, non gli avevano neanche creduto. La delusione gli aveva fatto voltare le spalle alla speranza. Erano tristi, perché la delusione rende tristi. Quando penso ai discepoli che vanno a Emmaus, penso proprio a queste giornate. guardate com'è il cielo. Anche il cielo sembra piangere, essere triste. La delusione è una giornata di pioggia dentro il nostro cuore. La tristezza. Capita a tutti di rimanere delusi, sapete. Si può essere delusi da se stessi. Per esempio, che ne so, quando avete studiato tanto e un compito vi va male e rimanete delusi. Si può rimanere delusi dagli altri. Pensate per esempio quando un vostro amico vi dice una bugia. Oppure quando vi aspettate qualcosa da mamma e papà e loro anche se vogliono non possono darvela. Voi rimanete delusi. Si può rimanere delusi perfino dalla natura. Oggi per esempio io speravo che fosse una giornata di sole e invece una giornata di pioggia. Ma pensate anche per esempio al virus che stiamo vivendo, che è una malattia che viene dalla natura. Non è colpa di nessuno, ma rimaniamo delusi lo stesso. E si può rimanere delusi anche da Gesù, da Dio. Questi uomini aspettavano grandi cose da Gesù e invece Gesù si era comportato diversamente. Aveva accettato di morire in croce e di dare la sua vita senza scappare dalle mani di chi l'aveva catturato. Perché noi qualche volta possiamo chiedere a Dio delle cose. Per esempio potremmo aver chiesto al Signore di guarire i nostri nonni o di cambiare una situazione che ci fa soffrire e non è successo. Rimaniamo delusi. La delusione è un'esperienza che capita a tutti. Non dobbiamo spaventarci però. Gesù a quei due discepoli vuole insegnare qualcosa. Infatti nel cammino verso Emmaus proprio Gesù si avvicina a loro. E loro non lo riconoscono perché la delusione ti mette le patate davanti agli occhi. Non vedi più la realtà, com'è veramente. Non riconoscono proprio Gesù. E allora lui con pazienza gli insegna il modo per venire fuori dalla delusione. Perché la delusione non diventi disperazione. E allora ci sono quattro strumenti utili per non cadere nella disperazione. Il primo non chiudersi in noi stessi. Non voltare le spalle. Non scappare. Gesù si avvicina proprio perché loro possano raccontarsi, dire come stanno e spiegare la loro versione delle cose. Aprirsi. Non chiudersi. Quando si è delusi bisogna cercare qualcuno con cui parlare. Che non sia qualcuno deluso e triste come noi, ma qualcuno che ci può ascoltare. Secondo strumento. Gesù spiega la parola di Dio. Guardate qua. Bisogna sempre avere in tasca un bellissimo Vangelo. Questa è la parola di Dio. Leggere tutti i giorni un pezzettino del Vangelo ce lo dice anche Papa Francesco. E il secondo strumento per non cadere nella delusione. Terzo strumento. Quando arrivano ad Emmaus con Gesù, Gesù fa finta di andare via. Invece loro dicono, no resta con noi, vogliamo stare con te, perché è piacevole stare con Gesù. E lui entra dentro e mangiano insieme e lui spezza il pane per loro. Ecco allora, partecipare alla Eucaristia, alla messa, alla vita della comunità. Voi direte, vabbè ma in questi giorni non si può, le chiese sono ancora chiuse. Sì è vero, ma in questi giorni possiamo pregare a casa allora, condividere la preghiera con la nostra famiglia ed essere pronti appena sono aperte le chiese a non mancare mai all'Eucaristia. Quindi aprirsi agli altri, leggere il Vangelo, partecipare all'Eucaristia. E la quarta cosa? Beh, la quarta cosa la possiamo fare sempre, perché se ci sediamo a tavola con Gesù, impariamo da Lui a condividere la vita anche con gli altri, con i più poveri soprattutto, quelli che hanno bisogno della vicinanza e dell'attenzione di qualcuno che stia con loro. La carità e la vittoria sulla delusione. Finisco con una confidenza. Una mia amica suora, quando stavo per diventare prete, mi ha detto, caro Luca, quando sarai prete, se ti prende la delusione, la tristezza, vai dai poveri e ritroverai la gioia. E quello che hanno fatto i discepoli di Emmaus, che dopo aver fatto questa esperienza con Gesù, sono partiti di corsa di notte da Emmaus e sono tornati lì dove siete voi, a Gerusalemme, perché la gioia di Gesù risorto li aveva riempiti. Allora buona corsa amici cari ragazzi e in una giornata così alla fine vincerà sempre il sole e tornerà la gioia. Buona domenica!